La Russia accusa l'Azerbaijan di violare l'accordo sul cessate il fuoco con l'Armenia in Nagorno-Karabakh, mediato nel novembre del 2020. Baku ha respinto la richiesta di Mosca, che sollecita il ritiro delle truppe azzere dalle aree sotto il controllo delle forze di pace russe. Secondo il Cremlino, le forze dell'Azerbaijan hanno compiuto quattro raid nell'area, usando i droni turchi Bayraktar. Con una nota ufficiale, il ministro della difesa russo ha dunque accusato l'Azerbaijan di aver violato le disposizioni della dichiarazione tripartita dei leader di Russia, Azerbaijan e Armenia, e ha chiesto l'immediato ripiegamento delle truppe. L'avanzata azzera avviene in pieno conflitto russo-ucraino. Baku sostiene che Mosca non ha il diritto di definire illegali le mosse militari. Le zone di confine tra il Nagorno-Karabakh e l'Azerbaijan rimangono militarizzate in un regime di cessate il fuoco, spesso violato da entrambe le parti.